buonasera a tutti sono luigi ronaracus e preferite benvenuti da una giocombattola versione jump con l'analisi dei due nuovi tour dell'other world che va a migliorare dpg che ormai abbiamo trovato in centinaia di migliaia di copie e si parlo di te sei la angel agl pg perlomeno più accettabili non dico buoni ma accettabili parliamo con l'analizzare proprio il carissimo se le angel agl abbiamo statistiche abbastanza buone 11.475 hp 10.797 attacco e 7.039 di difesa leader skill proprio penoso ormai tre chi è stato 90% agli agl ma ci può stare passiva la passiva migliore enormemente ora è un 20% attacco 15% difesa per orb ottenuta se prendete duo più orb rainbow tutti quanti gli alleati dicevano due chi ottimo e ha attacchi super efficaci se avete nel team personaggi solo nella categoria order world warriors che è il vero punto devo di sto pc poder day world warriors ragazzi fa cagare con la categoria ma lo vedremo nel video show case della categoria che arriverà nei prossimi giorni video show case in cui noterete che davvero lasciamo stare padre nostro perché i link peccato perché sono anche buoni BBB sempre comunque immenso ultimate life form che è buono adesso che è al livello 5 inizio ad avereGeneral cover e aumento delle stats, Fear and Fate che fa cagare, Shocking Speed carino, Nightmare carino, All the War Warriors che ottiene un buff alla difesa però è buono a prescindere come base e Fierce Battle. Android, Transformation Booster, Traverse, Artificial iPhone, Kamen Out of the War Warriors e ha effetto Kaioken nella special che lo rende un PG davvero buono in Rival. Come anche i PG vecchi che abbiamo visto ovvero Sele Freezer Angel GT o era solo GT non ricordo in questo momento, sono PG molto carini a giocare in combo che funzionano davvero bene. Questo Sele in Out of the War Warriors è presso a poco quasi staple dato che non hai un cavo a giocare in quelle categorie, salvo avere tutte le LR e fare il team versione super che risulta escluso Freezer praticamente molto più performante. Ciononostante dice qualcosina è un nuker, prende una media di difesa abbastanza buona, ha l'effetto Kaioken 20% che lo aiuta non poco, questo è sicuro. Purtroppo però davvero molto limitato, lo vedrete full ability perché sì sono masochista, gli ho dato l'ability chart e l'ho portato a full ability e addirittura equip per renderlo decente. Build consigliata andate di o full ad se volete massimizzare il boost col Kaioken oppure critico ad come ho fatto io in modo da fargli fare almeno qualche danno. Non l'ho ancora visto arrivare ai 2 milioni ragazzi. Parliamo invece del secondo PG ovvero Freezer Angel. Questo PG ha un potenziale assurdo ma ha sfiga di chiamarsi Freezer Angel. Stesso nome del Dokkan Fest. Quindi per cui non lo userete mai. L'unico motivo per cui utilizzate questo PG è che non avete pullato Freezer e andate di Goku leader. Ragazzi non avete idea di che peccato perché altrimenti sarebbe un TRS e sarebbe di sicuro un PG molto interessante. Comunque un 10.584 HP per un 10.129 attacco e 6.580 di difesa. Leader skill come Free, come Cell, 3 key e stanza 90% di tech. Passiva invece diversa che va molto a braccetto con il suo compagno come abbiamo visto in ogni iterazione in cui giocano assieme. Infatti io mi aspetto in futuro un LR free to play se le Freezer che fanno il congelamento sarebbe molto carina. Otherworld Warriors poi speriamo bene. Attacco 120% e difesa 100% al lancio della special che però non vi obbliga a non metterlo primo come vedremo dopo. Cambia le orb inti in orb rainbow e riduce i danni del 40% nel momento in cui avete solo Otherworld Warriors come personaggi. Questo PG mette molto probabile la scelta per una futura RO ad Otherworld Warriors di giocare con il leader Goku e amico Freezer fisico. In quanto Freezer si può evadere tutto quanto ma questo PG vi garantisce sin da subito una damage reduction del 40%. Quindi bisognerà testarlo. Ad oggi risulta quasi inutilizzabile sotto molti aspetti ma in futuro chissà. Chissà che in una RO ad Otherworld Warriors non si riveli essere il PG che faceva per noi, il PG che ci permetterà di farla molto facilmente. Link Prodigio, Strongest Clans in Space, Universe Most Malevolent, Shocking Speed, Nightmare, Otherworld Warriors, First Battle, Link abbastanza normale, Transformation Bluest, Wicked Bloodline, Otherworld Warriors, effetto che io che è nella special. Esattamente come Cell, il primo principale che fuori dal suo team ha la passiva dimezzata, nel suo caso addirittura in maniera più pesante di Cell perché mentre Cell perde solo super efficace ma mantiene tutte le altre caratteristiche che possano essere il boost di chi e il resto prendendo due Rainbow. Lui l'unica cosa davvero buona che ha di passiva particolare che non sia il boost alle stats è proprio il damage reduction quindi è obbligato a giocare nel suo team che non può essere ibridizzato con i Resurrected o con i Super Saiyan 3 che in realtà è più una cosa che molti Super Saiyan 3 sono Resurrected. Però questo vi riduce di molto le scelte giocabili e come vedrete nei team che porterò nei prossimi giorni si sente tanto, si sente tanto. Peccato però, peccato anche e sia farmabile, cioè è davvero uno spreco, mi dispiace davvero molto, però se questo è il prezzo a pagare per avere quella bestia di Freezer Fisico mi va bene. Tutto questo, queste erano le funzioni di voi questi due RPG, avrete a breve un video showcase del team of the World Warriors giocato con questi RPG e anche gli altri. Ragazzi una cosa che non avete capito, oddio che in realtà uno o due persone non hanno capito, degli showcase è che non sono solo del PG, sono di come gira il team. Quindi è normale che non ci sia soltanto un PG sotto i riflettori. Cercherò comunque di trovare un modo per ammettere quelle correzioni che mi avete consigliato anche se sinceramente non è semplice. E per quanto ci riguarda noi ci vediamo al prossimo video che dovrebbe essere proprio lo showcase, poco prima di passare a Kid Buu e poi una bella Super Extreme Battle Road Extreme con un team Managing Power. Al prossimo video, buona serata. Al prossimo video, buona serata.